8 peta chi muore ma io te non ecco appunto lei appena detto che mi dai la parola libio di coble obbene questo è un testo no o a me ne date solo 11 non è detto che ne avevi un casino acqua sono eh si la so se non si la so se non pierna quasi sono e fatto un troll che bastardo vabbè si dai peta chi viene cacciato alla serie passa via indipendentemente dal numero di altri però mettete nello stesso perché cacciamo peta vabbè io ritorno in quel rifugio prendere la coble un uovo un cribbio di uovo mi sentite si no no perchè sei pierna se dicino vuol dire che lo senti ha fatto la domanda mi sentite i cansi ma anche tu un uovo per chi era una cosa del mondo guarda questo è un'area guarda quarta cosa ho messo sono questa qui è un'area che c'è l'arenaria no per quanto lascia ma che cazzo o per l'ingresso e che ho una scia e io però sono al rifugio e per la roba ok ok allora me la crafto mi piace se volete fare in serio chi è che te lo ha chiesto? allora mettete non mi piace ragazzi noi in non mi piace valgono come mi piace basta che non scegliete di avere peggio gusto no è una piatta che ci sarà più in serio visto che lui è stato quello che ha detto di fare la serie chi è lui? io ah lui tu non lui lui io lui chi è lui? tu lui io noi essi essi raga qualcuno ha coble è bisogno di si l'ho commettendo io metti tutto ma aspetta da poter tenere servene un po' oh oddio mi sono bloccati nel no 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 anzi non ho 44 aspetta arriva di nuovo il titolo che mette la canzone del si 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 basta che non ricorda sul server e poi se tu vuoi se tu vuoi eppure ho scritto su ingrana ho poca quindi ci penso io no perchè l'avete tolta da sotto le mu... no perchè l'avete tolta da sotto le mu... no perchè l'avete... petacchi vai a fanculo brav brav dai petacchi oh petacchi te ne vuoi andare c'è ma guarda la un attimo stanno facendo un casino col pavimento ok io sto pieno di togliere le foglie da sopra la casa per fare il secondo piano io l'inventario pieno e petacchi non potè più uscire no no spacc... petacchi rimane intrappolati in minecraft per sé petacchi da qui in avanti dai grazie ma sarà la sua vita a rompere blocchi su minecraft rimetti l'altra cesta petacchi qua ha finito la carbonella il charcoal azz... parlo cicole perchè tanto inutile per adesso disattivo io ho una bistecca ma sono solista io aspetta dove sei... tieni dai dai slata qui ragazzi dai 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 poverino sono moito di parlo lo toccolo questo gesù dai ok perfetto la coppia di altri punti la pistacca è buono lo sai è duro ma sono buono dobbiamo andare a cercare la lana anche lei io preferisco il legno la prossima volta che ti dò il palco a casa abbiamo una tentativa sabbia dove c'è la tomas che faccio il vetro e sono qui di tritta di tritta di tritta di tritta di tritta di tritta vado a prenderla e pettacchio se avrai prendere una roba presa troppo cosa sabbia niente niente chi è che avessero questi due cubi di legno qua cazzo uno uno se le tro ma muori sto facendo una delle mie mercosizioni ma muori ma credo perché non ti prendo ecco bravo io ecco dopo facciamo un video su basti tre per me ah no però no io quando finisco qua devo andare a studiare qualcosa oh madonna quanto vuoi fare 10 minuti va bene beh in quarta d'ora ancora però poi basta petacchi nooo una spada ma è di meglio ma chi se ne fa no te lo devi trovare ah aspetta no ma qui c'è ma qui c'è il robot con le cose il e' la roba di un'altra parola e ancora lì io ho detto di rimettere la cesta non è anche l'intelligente tutto aiutare i dati no no te l'ho lasciato e non sono onesti che sono come vuoi rubare la roba no 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 pettacchi ciao a questi episodi non mi ritacchi il nome è più fra quanto pettacchi però una cosa grazie dell'acqua mi serviva a me era così roba dove 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 sono vede l'altra cesta che c'era qua o che è la messa thomas no chi è alca no che si io l'ho amassato si chiunque sia tu sei fuori come hai fatto alla la la come come si chiama cesta e si tu 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 fai tu e poi soprattutto mi serve del cibo ah no cinque mele niente lasciate essere detto niente si ma se facciamo un video si tratterà io non ho registro perchè sono già nabo chi è che ha messo questa cobblestone ad esserno vabbè perchè io sono più nabo di te e se ne tiene conto io sono più nabo di te e se ne tiene conto web che si sapevano ma quello quello non c'era bisogno di essere no 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 oh ma basta questo canio con tattacchio non mi fa sognare ma nessuno se che dice contro tattini la gente se che dice non contro pettacchi ma contro pettacchi 331 che sei tu nel tuo specifico mi ha fatto quale se non è il mio po' ma ti basta adesso ci do con la mela e disattivati tv per caporchetta ma non importa, è l'attivo, è cattivamente in pvp per forza no 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 e vedi a via di si è vero no ma sto scherzando che fa no niente oh ora non vogliamo, sto volando davvero guardate il trampolino cosa stai facendo? ecco bravo, fai il trampolino, bravo fai le cose più utili della storia ieri ho passato tutto il giorno su Battlefield, avete presente? come si chiama? quella mappa lì, non me lo ricordo picco d'amaland, picco d'amaland e c'è in corsa c'è la roba, ci sono dei ricotti, anzi in conquista c'è la roba, stai facendo guardate su coda, ah a su picco d'amaland eh mi sono buttati mi fai passava la giunta da buttarmi giù dalla dalla cosa dell'elicottero e cadere col paracadute oh ma non ti gare una giornata che mi ha avuto dove li dico a dire cosa ti ho detto guarda, stavo facendo su minecraft ma io vido su minecraft, su minecraft, si, ma mi scusa non vi scrivete le mani No perché...No non non. Iscrivetevi a XXX. Deve essere simmetrico. No spero. Come si chiama? Iscrivetevi ai Xx.. Iscrivetevi ai Castagames. He, non no è XxX. Casual Gamers. Lo mettete il link al canale.. Vabè, vabè... Vabè.. Vabè... Ok, come si chiama? È nuovo. Allora, fate iscrivi o subscribe, se ce l'avete in inglese, perché siete figli. Ahhhhhhh... bravi e se si arrabbi in francese non esiste youtube in francese no esiste 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 in tutte le lingue esiste anche in mandarino e anche in cinesi antico se non lo sai si 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 quello che vuoi oddio e anche vuoi fare la cagnotta perchè sei sul cacolino ok guarda guarda per me guarda guarda e fare almeno un triple e mezzo piatto bravo si ma che te lo state facendo salto sopra petachio beh non è morto perchè non è morto dai povero petachio non è morto schifo basta perchè io cado nel beh lasciamo stare dai facciamo ancora una notte facciamo la notte andiamo a uccidere il più modo possibile si muoveva subito petachio è l'idolo del della cosa qua si è l'idolo di petachio ammazza oh c'è un creeper c'è un creeper eeeeeee 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 ho sentito un'esplosione ecco petachio evita di fare il tuo solito di che fai entrare i creeper in casa oh Gesù eh vabbè per la quell'episodio che ci facevamo erano epici cos'hai detto? quell'episodio che facevamo erano epici ma noi non facciamo nessun episodio non giocavamo mai per i diversi io registravo è vero è vero non guardate canali perché ragazzi mi raccomando perchè è proprio perdete tempo praticamente guardate io ho gli occhiali l'ho appena piato l'ho appena piato l'ho gli occhiali perchè ho visto un canale di petachio e ho dovuto mettere gli occhiali eh anch'io io l'ho indiettato l'ho visto più volte l'ho visto più volte l'ho visto più volte gli occhiali gli occhiali si vedi da mettere qua te la faccio io ecco io non ho porte perchè che hai rotto ah no si si la faccio ok mettiamo le torce in modo artistico no l'hai fatta tu thomas dai ok perchè chi è chi perchè non chiudi la porta o entri e poi metti la oh ma che cacchio fai non chiude la porta mette la terra sulle finestre picchialo per favore se perchè no ma perchè sfaccati è quello che ride dai e godi a fare queste cose ok dai basta ho messo la porta si ottimo ok possiamo dormire non abbiamo il letto basta abbiamo i letti aspettavo mi spiegate che si fa caricare un video su youtube perchè ma dai petalchi non sono la terra davanti alla porta lo kick basta kick petalchi 3 3 1 oh 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 bella no ho ritornato guardate io sei no 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 non diciamoli dove era cazzo merda ma come ha fatto a trovarlo cazzo epic fail coglioni no oddio creeper io come ti metti il tempo da che sei un coglione non coglione ecco raga vedete che sei una cosa mi serve l'ora è larga larga è un albergo e ci è un'esercizio ci è un'esercizio è un'esercizio è un'esercizio Una spada a mezza distrutta Ecco l'hanno zombie Devo farmi un altro Guarda Pettacchi che mette il blocco di pietra Un altro ragno Arca per favore Che capità che ha dato le balle Un momento Uh canne da zonero Vabbè ampiamente No mi è finita la spada Vabbè lo prendo Thomas Qua c'è cibo ambulante Eh si Cibo ambulante Io prendo la canela da zonero ragazzi Vabbè mi dobbiamo fare la spada inferno Ma perché pietacchi Ma perché pietacchi mi ha presi turingotti di ferro prima Oddio da un mazzare Basta lo chicco Dio 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 Perenditi quanto che cagata che ha fatto Dai Io non sto registrando Ma vedo Muro di terra Allora entra da l'altra parte Ma che figlio di c'è Sono insieme Tenevamo Dov'entra Dall'altra parte Dai pietacchi è rotto i coli Dai non posso Guarda che idiota Bassa lo banno Bassa via Bassa Siete tutti i testimoni Che sto bannando pietacchi Via Bannato Via Sì sì Oh vaffanculo Nooo Oh meno male Dai chi veramente c'è esagerato Non dovrei farle questi sgarri ad Alca Alca è peggio di Sì sì Di tu ciancimino Dove ve lo perdono se mi si va Oh grazie Come si fa perdonare a proposito? Adesso dov'era casa fighe Cos'è? Di fare No petaki non puoi parlare Su sito alla serie Se non te ne rendi conto Ti ho bannato No devi fare Tu esclamativo Pardon Petaki Quella po' maiuscate 131 Slash Slash Hanno punto esclamativo Pardon Slash Pardon Puttene esclamativo Vai Come spaglia Tipo Su Battlefield Punish Punish Ieri tipo In una pata Mi hanno ucciso Mi hanno fatto tipo 8 team kill Dai lo perdono 8 team kill Ma io lo so cosa facciamo ieri Allora Petaki si è perdonato Quando perdeva l'aerie Mimusotto Mi uccideva E quando volavo Poi mi poneci E vedi villero Uh Ah petaki Ti vengono Che leccarli i piedi Perché te perdona Porca puttana Ah bene Possiamo anche soppare qui A questo punto Poi Dai aspetta Rientra anche tu petaki Poi ci facciamo il saluto Sì io fermo qua Perché Veloce Veloce Perfetto Esatto Dai petaki Movi Eh Io l'ho fermato prima Perché Mi stava laggando tutto Sì ma ragazzi Ma poi quando facciamo Il prossimo No lo faremo Lo faremo Vai Domani Ok 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 Praticamente tu sei Quello che si vede di meno Quindi devi dirci poi una data Vabbè O un'ora Sì vi faccio sapere Un minuto Un esempio Petaki rientra Chi è Chi è Chi è Dai petaki Dove sei Non mi fai aprire manca Aspetta Uno zombie Non gli fai aprire manca No Non mi fai aprire la porta Petaki Non te la spada in mano Da qui signori e signori Da noi tre Da Iaco E da Thomas E da me No da Petaki No perché è stato bannato E da Petaki Che No Non mi è sconosciuto Vi salutiamo Ci vediamo nel prossimo episodio Via Aspettami Viva Petaki